Figo fare causa. Ciao, 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 ciao. Allora ragazzi, il mondo di Olli Fanzo l'abbiamo in qualche modo dragato, come si dice in senso tecnico, l'abbiamo esplorato in tutte le sue particolarità, no? C'è una persona che è uscita da Olli Fanzo con un milione e novecentomila follower su Instagram, è uscita da Olli Fanzo però già da più di un anno, se non sbaglio. Si chiama Elena Morali, che io saluto. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, ciao, buonasera a tutti. Eccoci qui. Allora, diciamo lei di conformazione fisica classica e caucassica, come direbbe qualcuno, cioè italica, lei ha una conformazione fisica diversa per esempio da quella della signora Lubambo o di quella della signora Egonu, non per questo, ma non c'è dubbio, cioè diciamo il fisico è diverso ma non per questo diciamo che è meglio o che è peggio, è uguale, siamo tutti uguali, dopodiché se uno dice che ci sono delle differenze non è perché è razzista, no? Mi sembra abbastanza chiaro. No, perché è oggettivo. Perché è oggettivo, molto bene. Lei apprezza il generale Vannaccio o se ne fotta della politica? Me ne fotta abbastanza. Se ne fotta abbastanza. Allora, lei però negli ultimi giorni è venuta fuori una cosa, lei ha abbandonato OnlyFans, fa altre cose, fa la Showgirl eccetera, perché ha abbandonato OnlyFans? Perché non faceva mai cose hot diciamo di OnlyFans. No, perché esatto, io l'ho aperto in un momento in cui era appena arrivato in Italia e quindi lo usavo un pochino come adesso c'è l'abbonamento Instagram, quindi mettevo altre foto simili a Instagram, però al momento non essendoci competizione diversa funzionavano. Quindi cioè, se mettevo foto che mettevo anche nelle storie Instagram andava bene. Adesso purtroppo, o per fortuna per quelle che ci sono le creators, OnlyFans si è data un pochino più a foto. Al porno diciamo, all'otto, al sesso esplicito che lei però non vuole esibire, non vuole fare. Non vuole fare, ma lei guadagnava qualcosa con OnlyFans o no? Sì, beh, ma se mi iscrivessi anche tuttora, cioè comunque un minimo l'abbonamento te lo porta, se hai già una fanbase. I piedi per esempio, lei l'hai mai esposta con OnlyFans? I piedi sì, poco, però mi non interessano molto. Gli chiedono i piedi? Sì, sì, quelli anche su Instagram. Su Instagram gli chiedono? Però devi sapere che una cosa che a me fa davvero schifo, sia di mio che degli altri, sono i piedi. Cioè proprio i piedi io li toglierei. Lo sa perché? Perché ho visto i suoi piedi, perché sono incuriosito dai piedi, e lei ha dei piedi un po' con l'alluce valgo. Sì, quello l'ho preso da mia madre. Mi faccio vedere l'alluce valgo? No, assolutamente no. Ah, è proibito vedere il suo piede con l'alluce valgo, ma lei lo esibisce ogni tanto? Sì, sì, ma a me fa schifo proprio quando mi dicono, ah i piedi, per carità. I piedi perché lei se li vede bruttini i suoi piedi. No, 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 a me fanno schifo tutti i piedi. Tutti i piedi? Sì, assolutamente. Vabbè, quelli di un uomo... Soprattutto quelli di un uomo. Eh, soprattutto quelli di un uomo. A me è contrario. Rispetto a quello di cui si discute nel mondo, gli attacchi degli uti nel Mar Rosso, la sicurezza... Noi stiamo parlando di piedi. Certo, assolutamente. Noi parliamo sempre di piedi, parliamo sempre di piedi. Incredibile. Scusi, la sua preferenza, per esempio, è per... Ci sono... Adesso poi affrontiamo un tema, il motivo per cui lo invitate, che è quello dell'intelligenza artificiale. No, adesso chiudiamo, non affrontiamo più niente. No, che è questo. A lei piace di più l'uomo, per esempio, depilato oppure no? L'uomo, no, no, no. Allora, oddio, non deve essere un orso, almeno sulla schiena depilato, per il resto va bene l'uomo. Cioè, è giusto che l'uomo abbia i peli. Abbia i peli. Dunque, l'uomo completamente depilato anche nelle parti intime un po' le fa strano, diciamo. Sì, anche se il mio fidanzato ama il pilato. È depilato. Sì. Anche se io sono convinta che non lo faccia per me, però. No, lui lo fa per l'Holly Fance Gay che frequenta. No, no, secondo me lui lo fa quando parte per due o tre giorni. No, scherzo. Ah, lo fa per altri motivi. Lei come prenderebbe un tradimento? Male, molto male, soprattutto adesso che sono fidanzata con Luigi, prima l'aver ripeso più... Male nel senso, se io lo dicesse domani mattina, ti amo lo stesso ma mi sono trombato una nel bagno di un locale, quale sarebbe la sua reazione? Beh, io direi vai a farti due esami, perché se hai bisogno di trombarti nei bagni del locale, non so quanti germi e cose ci possono essere in giro. No, ma col preservativo. No, beh, gli direi semplicemente va bene. Va bene. Perché abbiamo chiuso qua? Beh, ma se allora, io mi mantengo da sola, faccio tutto da sola, se sto insieme a qualcuno è perché mi dà un valore aggiunto, se in più deve andare con un'altra e stai con l'altra, no? Ma no, andare con l'altra non significa non amare una persona con cui stai. No, non dico quello, quello sono convinta anch'io, però dico per stare con me stai solo con me, se no... E perché? E perché? Perché questo persona... Deve avere quella cosa in più per stare con me. Sì, certo, perché ti ama. Perché magari ti ama. Ma le amarmi mi amano anche i fans. Luigi, che è Luigi favoloso, ti ama. Ma mi amano in tanti. Non ti ama come un fans, ti ama, cioè ti vuole bene, ti ama. Anche il mio cane mi ama anche di più. Ma no, ma non è vero. Però non mi tradisce. Ma che vuol dire? Il cane non può tradire perché non può tradire fisicamente? No, non può tradire, però il mio cane sceglie me, anche più del mio fidanzato. Sì, d'accordo, ma non si può pretendere che uno abbia voglia di una persona per sé, solo di una persona. Allora, generalmente anch'io credo che l'uomo sia un animale, quindi è impossibile essere monogamo. Eh, allora... Però uno decide, perché ha l'intelligenza di essere monogamo. Anche io non sono stata monogama prima di lui, però da quando sto con lui, essendo lui napoletano, molto geloso, giustamente. Lui dice, io ti amo, non voglio che vai a caldo. Lei non crede nella coppia aperta, diciamo? No, no, no. Non crede, perché non vuole condividere nulla, non vuole condividere i corpi. No, non voglio condividere Luigi. Non vuole... Magari altri partono, sì, però Luigi è mio e io sono sua. E io sono sua, mamma mia che cosa, il possesso è una cosa terribile. No. È la cosa che rovina il mondo, il possesso. Ma non è vero, è che a me piace solo lui. Ho capito, ma mi piace solo lui adesso, magari tra un mese ti piacerà un altro. Però adesso sono lui. E magari continuerai ad amarlo lo stesso e dunque io ti do un consiglio, tradiscilo, va, diglielo. Ho scopato con un altro, ho scopato con un altro, lui sarà contento di questo. Aprite, aprite le vostre menti. Comunque, lei si è basciata con un'intelligenza artificiale, con una influencer che ha intelligenza artificiale. Sì. Cioè, a Barcellona, lei è andata a posto con una che ha non so quanti milioni di follower, questa qua, no, non tantissimi follower. Però è, diciamo che è una ragazza che non esiste. Però è finta, è finta e guadagna un sacco, questa ragazza finta guadagna quanto? E guadagna anche 20.000 euro al mese, o meglio, la società che produce questa intelligenza artificiale. 20.000 euro al mese? Sono dei piccoli geni perché sono tutti... E tu hai baciato questa ragazza che non esiste. Sì, esatto. E che sensazione è stata baciare una ragazza che non esiste? Ovviamente è tutto fatto al computer, però poi quando ti sei vista là, che baciavi questa ragazza, che sembra vera tra l'altro. Assolutamente. Tra l'altro mi avevano cambiato anche, perché devi sapere che l'intelligenza artificiale prende un po' tutto. Quindi io all'inizio non avevo neanche il mio naso, il mio viso. Mi dicevo, madonna, mi sembrava un po' gargamella. E no, è stato strano. Allora, ti devo dire che al posto dell'intelligenza artificiale c'era una persona, in una foto c'era Luigi, semplicemente per dare un pochino lo spazio e far capire al computer dove impostare poi la sua origine. Ma secondo te il futuro anche di OnlyFans è questo? Uno si potrebbe mettere là dentro e scopare con l'intelligenza artificiale? Perché sembra tutto vero, ci sembrava vera questa qua. Beh, devo dire che... Sarebbe straordinario. Uno potrebbe mettersi là con la tua faccia, eccetera, dentro OnlyFans, fare un account, non dico con la tua faccia, un account, eccetera, non comparire mai, non fare nemmeno quelle scene e in realtà vuoi dannare lo stesso. Fare anche di più, assolutamente sì. Sì, infatti loro stessi che hanno questa agenzia dicevano, lei in particolare non lo fa, che però l'intelligenza artificiale sostituirà anche quello già a tante modelle creators di OnlyFans oppure di altri siti, perché OnlyFans ha bisogno ovviamente del documento, ma tanti altri siti... Lavorano solo con l'intelligenza artificiale? Solo con l'intelligenza artificiale, quindi fanno... Ma tu vuoi diventare un avatar? Io vorrei diventare un avatar, sì, sui miei social, così non avrei bisogno tante volte di prepararmi, di truccarmi, di tenermi così tanto, che sono cose che non è che io ami troppo. Anche io voglio un avatar alla zanzara. Bellissimo sarebbe, cioè Parenzo con un avatar alla zanzara che dice esattamente le stesse cose e poi in quel momento sta facendosi i cazzi suoi, sta prendendo un aperitivo, sta a cena con i figli invece di stare qui a cazzeggiare con noi. L'avatar di Parenzo alla zanzara. Io chiuderei con questo, ringraziando Elena Morali e mandandovi a fare in culo tutti quanti, anche mandando a fare in culo la Trump-Guerri, invece la amo fortemente. Forza Trump! Ai italiani! Ai italiani!